La relazione che ora esporrò si inserisce nel progetto di divulgazione scientifica Uda Scienza dell'Università Gabriele D'Annunzio, finanzato dal Ministero dell'Università e della Ricerca. L'argomento sarà un modello di masse neuronali che simulano l'attività celebrale. Farò particolare riferimento alla connessione tra le caratteristiche matematiche del modello e la loro interpretazione medica. L'intervento si articolerà in quattro fasi principali. Dapprima introdurrò cos'è un modello matematico, quali sono i principali modelli utilizzati in neurologia e neurofisiopatologia, successivamente l'oggetto del mio studio che è in particolare il modello di Jensen-Ritt ed infine illustrerò le simulazioni numeriche dei comportamenti che il sistema è in grado di riprodurre avvalendomi di software di integrazione numerica. Spesso si pensa che la connessione principale tra le scienze della vita e la matematica sia unicamente la statistica. In realtà questa disciplina ha una grande capacità che è quella di produrre i modelli matematici. Un modello matematico rappresenta una schematizzazione, a volte semplificata, della situazione analizzata. Esso viene descritto da un sistema di equazioni che può essere più o meno complesso che lega tra loro le variabili che rappresentano quelle che sono le quantità che concorrono all'evoluzione del fenomeno oggetto della nostra osservazione. Una volta analizzato il modello si arriva a dei risultati che possono essere confrontati con quelli che sono i dati sperimentali o possono allo stesso tempo suggerire nuove vie di indagine. Nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi tipi di modelli, sia neurologici che puramente matematici. In particolare questi vengono suddivisi in due grandi gruppi. Il primo è quello dei modelli microscopici, i quali descrivono la dinamica dei singoli neuroni, nei quali ad esempio fa parte il celebre modello di Maurice Lelard. Allo stesso tempo vi sono al contrario dei modelli macroscopici dove le variabili caratterizzano l'andamento di intere popolazioni neuronali. Questi dal punto di vista computazionale sono preferibili poiché vi sono pochi parametri che caratterizzano la simulazione numerica dell'intero sistema. Il modello oggetto del mio studio appartiene a questa seconda classe ed è il modello di Jensen-Ritt. Il modello di Jensen-Ritt è stato sviluppato per la prima volta dagli autori nel 1993 e studia la dinamica temporale di una colonna corticale attraverso l'interazione di tre popolazioni di neuroni interconnessi, i neuroni piramidali, gli interneuroni eccitatori e gli interneuroni inibitori. Oltre alle connessioni tra queste tre popolazioni abbiamo modellizzato un input esterno, quale ad esempio l'influenza che hanno delle regioni corticali attigue, per esempio il talamo. Le interazioni tra le popolazioni vengono modellizzate da due tipi di blocchi. La prima tipologia di blocco, quella nel nostro schema caratterizzata dalle lettere P1, P2 e P3, trasforma la frequenza media di attivazione in un potenziale di membrana post-sinaptico medio, eccitatorio o inibitorio. Infatti, mentre i neuroni piramidali e gli interneuroni eccitatori utilizzano entrambi il glutammato come neurotrasmettitore, la loro risposta all'impulso è definita dalla stessa funzione HE. Al contrario, gli interneuroni inibitori utilizzano GABA come neurotrasmettitore. Pertanto, la loro risposta all'impulso è definita dalla funzione HI. Da un punto di vista di analisi del segnale, se l'input del blocco è un segnale modellizzato dalla funzione Xt, dipendente dal tempo, l'output sarà dato dalla convoluzione lineare, dalla funzione HE o HI rispettivamente, per l'input Xt, come possiamo vedere nella slide che definisce le funzioni. Queste possono essere descritte anche attraverso un'equazione differenziale di secondo ordine per ciascuna popolazione o, allo stesso tempo, trasformata in un sistema di due equazioni differenziali di primo ordine. Il secondo blocco, nel nostro sistema definito dalle lettere S1, S2 e S3, trasforma il potenziale medio di membrana di una popolazione in una densità di impulso media di potenziali in azione attivati dai neuroni. Questa è rappresentata da una funzione sigmoidale, che è quella che introduce la componente non lineare nel nostro sistema. Il modello, pertanto, utilizzando due equazioni differenziali di primo ordine per ciascuna popolazione, può essere espresso come un sistema di sei equazioni differenziali di primo ordine non lineari. Le principali variabili del modello sono gli output dei tre box post-sinaptici, y0, y1 e y2, e le loro derivate, che noi denoteremo con y3, y4 e y5. Con la funzione dipendente dal tempo, Pt, abbiamo definito la frequenza di scarica media arbitraria, casuale o esplicita, che rappresentava l'input eccitatorio esterno. Le costanti che utilizzeremo nell'analisi del nostro modello sono quelle definite da Jensen e Ritt nell'articolo originale del 1993. Prima di procedere con lo studio geometrico del modello, premettiamo due definizioni per una miglior comprensione. In particolare, definiamo qual è la differenza tra una singola convulsione, che è un comportamento disfunzionale causato da attività elettriche anormali nel cervello. Al contrario, invece, l'epilessia è una condizione neurologica caratterizzata dalla ricorrenza di queste convulsioni, a causa di un'anomalia celebrare che è persistente. L'elettroencefalogramma è invece la registrazione dell'attività elettrica lungo il cuoio capelluto, registrata attraverso degli elettrodi che possono essere di superficie o intracranici, ed è uno strumento importante per lo studio dell'attività celebrare umana, e in particolare anche proprio per il processo epilettico. Lo studio geometrico del sistema prende le base dalla definizione e dall'individuazione di una biforcazione. Infatti, nei modelli dinamici e nei sistemi fisici, il meccanismo alla base di una transizione nel comportamento è spesso una biforcazione locale degli equilibri, cioè un cambiamento nel comportamento dinamico del sistema. Questo avviene quando uno o più parametri passano attraverso un valore critico. Il primo step nello studio del sistema è quindi l'individuazione di quelli che sono i punti di equilibrio o punti fissi. Una volta infatti scritto il sistema nella forma seguente, y grande punto uguale una funzione di yp, dove y appartiene a r6, e p è non più una funzione dipendente dal tempo, bensì un parametro, i punti di equilibrio sono quelli che soddisfano l'equazione nella slide qui evidenziata, in cui la funzione viene posta pari a zero, che generalmente definisce una varietà unidimensionale liscia in rn più 1, nel nostro caso appunto in r6 più 1. Nel nostro modello, l'unica famiglia di punti di equilibrio nel piano è quella definita dalla curva evidenziata nella diapositiva, dove con y abbiamo definito la differenza tra y1 e y2, poiché esso, questa variabile, può essere considerata proprio come l'indicatrice dell'attività registrata dall'elettroencefalogramma, quindi registrata sulla superficie del cuoio capelluto dagli elettrodi. Poiché il nostro sistema è un sistema non lineare, analiticamente è impossibile procedere all'individuazione delle biforcazioni. È per questo che ci siamo avvalsi del software MATCONT, basato sul linguaggio interpretato di MATLAB, per individuare e riprodurre quello che è il diagramma di biforcazione, cioè la descrizione della dipendenza degli equilibri dal parametro. In particolare, con la linea continua abbiamo definito quelli che sono i punti di equilibrio fissi, quindi i cui autovalori hanno parte reale tutta negativa. Al contrario, con la linea tratteggiata abbiamo definito i punti di equilibrio instabili, quindi quelli che hanno parte reale di almeno un'autovalore positiva. Il nostro software ci illustra quelli che sono i punti di biforcazione. Il primo punto che incontriamo è quello per il valore di P di circa 114. Qui uno degli autovalori attraversa l'asse reale, quindi ha la parte reale di un autovalore che è nulla. Possiamo notare quindi la divisione della curva degli equilibri in una branca stabile e in una branca instabile. Successivamente troviamo per il valore di P96 un punto qui evidenziato come un punto di equilibrio H. Qui non vi è nessuna biforcazione, semplicemente una delle funzioni test del software, somma zero, poiché vi è un autovalore con parte reale positiva e un autovalore con parte reale negativa, la cui somma fa proprio zero. Il terzo punto di equilibrio che troviamo è per P pari a circa meno 41. Qui non vi è un cambiamento nell'equilibrio dei punti fissi, bensì solo un altro autovalore a parte reale che diventa positiva. Evidenziamo qui in linea tre biforcazioni di Hoof. La prima per un valore negativo di P, pari a circa meno 12, che anche se non ha una rilevanza biologica è molto importante da individuare per lo studio geometrico e matematico del sistema che andremo a fare. Successivamente troviamo due biforcazioni di Hoof, la prima per circa 89 e la seconda per circa 315. È importante individuarle per la definizione che daremo ora. Infatti, seppur il sistema ha una dimensione bassa, anche con dimensioni di poco maggiori di 3, può essere difficile definire l'andamento del sistema. Viene in aiuto quello che è uno strumento matematico molto importante, cioè il teorema della varietà centrale, che ci permette di studiare il comportamento del sistema in prossimità di particolari punti critici, riducendone le dimensioni. In particolare, lo spazio Rn viene decomposto nella somma diretta di tre sottospazi invarianti, il sottospazio stabile, instabile e centrale, rispettivamente generati dagli autovalori, rispettive gli autovalori con parte reale, positiva, negativa o nulla. Il teorema della varietà centrale ci dice quindi che vicino all'origine o a punti critici tutta la dinamica interessante avviene su una varietà invariante che è tangente al sottospazio centrale. Nella slide corrente notiamo l'enunciato completo del teorema della varietà centrale che noi andremo ad applicare nel punto critico di interesse che si aveva per P pari a circa 89, cioè alla biforcazione di Off. Ricordiamo che una biforcazione di Andropov-Off è una biforcazione locale che si ha quando una coppia complessa coniugata di autovalori diversi da zero incrocia l'asse immaginario. Questa si può ottenere solamente per un sistema di dimensione maggiore o uguale a 2. E' pertanto che il caso più semplice è il caso bidimensionale in cui si ha un sistema simile a quello evidenziato in figura dove se sostistono le condizioni di non degenerazione, cioè dove il primo coefficiente di Liapunov è non nullo e la derivata della parte reale degli autovalori della coppia coniugata è non nulla, allora questo sistema è localmente, topologicamente, equivalente, vicino all'equilibrio alla seguente forma normale. Il segno del primo coefficiente di Liapunov ci determinerà se la biforcazione è supercritica o subcritica, cioè se il ciclo limite stabile si avrà in essere per valori positivi di beta o negativi. L'applicazione quindi del teorema della varietà centrale a questa particolare biforcazione darà luogo a quello che è il teorema di Andropov-Off, che ci assicura la nascita di una famiglia di orbite periodiche che noi chiameremo ciclo di off per particolari punti critici. Per il nostro sistema il ciclo di off evidenziato in figura da questo ovale si avrà per valori di p compresi da circa 89 e circa 315. Notiamo anche la simulazione delle orbite periodiche e computazionalmente il calcolo del periodo di queste orbite periodiche che vediamo rimanere costante al variare di p nell'intervallo appartenente al ciclo. Vediamo anche come la simulazione della dinamica di una popolazione per il valore di p appartenente a questo intervallo, per esempio abbiamo preso p pari a 200, ci dà un'ampiezza che oscilla attorno ai 10 Hz. Questo sarà importante per la definizione dei ritmi degli elettroencefalogrammi che daremo successivamente. Il nostro modello è però in grado di simulare anche quelle che sono delle attività di picco, quindi delle attività simili a quelle registrate durante una convulsione in soggetti epilettici. Possiamo vedere come ad esempio questo avviene per un valore di p pari a 135. La spiegazione è data dalla presenza di due biforcazioni globali nel nostro sistema. La prima è quella che abbiamo definito come LP per un valore di p di circa 113 e la seconda è quella nel nostro sistema evidenziata da una linea rossa e da LPC che è una piaga di cicli limite data dall'intersezione di una famiglia di orbite stabili e una famiglia di orbite instabili che nasce proprio dalla biforcazione di Hopf che si aveva per il valore di p pari a meno 12, quel valore negativo che non aveva rilevanza biologica, bensì ne ha a livello matematico. Per una miglior comprensione esponiamo quelli che sono i ritmi in cui vengono classificati gli elettroencefalogrammi. Infatti il modello di Hansennerit è stato scelto proprio anche per la sua capacità di riprodurre queste attività simili a quelle registrate dagli elettroencefalogrammi per una miglior comparazione. Spesso essi vengono classificati anche in base alle frequenze e alle ampiezze che corrispondono a degli stati mentali e di salute del soggetto variabili. In particolare per frequenze minori di 4 Hz abbiamo quello che viene definito ritmo delta che si registra durante delle fasi di sonno profondo nei soggetti umani. Successivamente il ritmo teta è quello che si registra nelle fasi di sonnolenza. Il ritmo alfa in soggetti sani si registra da svegli e con gli occhi chiusi. Il ritmo beta si registra quando vi è una particolare attività della corteccia durante le fasi di sonno e il ritmo gamma si registra soprattutto durante l'attività motoria delle dita. Abbiamo scelto questo modello appunto per la capacità di riprodurre il segnale una volta integrato numericamente al variare di quella che era la funzione PT nel nostro sistema iniziale. Infatti se lo studio geometrico ha avuto luogo definendo P come parametro, ora integreremo numericamente con il software MATLAB il sistema facendo variare l'input PT nel tempo. In particolare vediamo due scenari. Il primo è quando si ha PT, un input con dei valori uniformemente distribuiti tra i 120 e 320 impulsi al secondo. Qui ci troviamo nella zona che nello studio geometrico era evidenziata dal ciclo di OFF. Notiamo come la simulazione numerica che si ha della frequenza della variabile y è proprio tra i 5 e i 10 Hz, quella che nella classificazione dei ritmi EEG veniva definita come il ritmo α. Al contrario, se inseriamo nel sistema come variabile PT un rumore gaussiano con una media di 90 e una deviazione standard di 30, quindi ci inseriamo nell'intervallo tra le due biforcazioni globali, notiamo come la simulazione della variabile y ci dà un'attività simile a quella epilettica. Le integrazioni numeriche del sistema sono state fatte nel caso deterministico con il metodo di Rung-Kutta, mentre nel caso stocastico con il metodo di Milstein. Per concludere, nella diapositiva corrente notiamo i maggiori riferimenti bibliografici della relazione appena esposta. Grazie per l'attenzione.